Che cosa abbiamo visto a San Siro ragazzi? E' successo di tutto nella sfida tra Inter e la Sverona delle 12.30 di oggi. Una sfida che laurea l'Inter campione d'inverno. Ma che fatica per vincere la partita e quanti episodi di cui dobbiamo parlare perché davvero è una partita dove è successo di tutto. Io mi aspettavo, sono sincero, l'avevo detto anche nei pronostici, avevo pronosticato 2-0 per l'Inter, quindi mi aspettavo una vittoria tranquilla dalla parte dell'Inter, anche perché il Verona veniva comunque da una sconfitta con la Salernitana, anche se prima di quella partita aveva giocato dei buoni match, veniva da un buon momento, però da quella sconfitta con una Salernitana in crisi. L'Inter aveva già sbagliato la partita col Genoa e francamente mi sembrava difficile pensare che l'Inter potesse sbagliare di nuovo, quindi mi attendeva una vittoria relativamente tranquilla da parte dell'Inter. Invece tutt'altro, tutt'altro, è stata una partita piena di emozioni, piena di episodi di cui si discuterà a lungo per tante cose di cui adesso parleremo. Succede quasi tutto nel finale, ma bisogna prima parlare della cronaca della partita, che comincia con un Verona comunque subito volenteroso, e non è da tutte le squadre arrivare a San Siro con questa voglia, la voglia che ha avuto il Verona, che parte dei primi 5 minuti mettendo subito in difficoltà l'Inter e creando un'occasione pericolosa con Suslov. Inter che però dopo qualche minuto di difficoltà rimette in ordine le idee e diciamo alla prima vera occasione, dopo che però già da qualche minuto aveva alzato il baricentro, passa in vantaggio con Lautaro Martinez. Giocata illuminante di Mkhitaryan per Lautaro, che stoppa e con un tocco stop, un tocco, una puntata praticamente, o un esterno adesso non l'ho visto benissimo, la mette alle spalle di Montipò. Bel gol di Lautaro Martinez che al solito, insomma, si dimostra il solito bomber che rientra da un infortunio, tempo 13 minuti e rientra dall'infortunio, e la mette subito dentro, mette la partita in discesa per l'Inter. A quel punto io mi immaginavo una partita per l'appunto in discesa per l'Inter perché ho detto ok, c'è stata la difficoltà iniziale, un Verona che è partito a carico, però l'Inter è riuscito a sbloccarla quasi subito, adesso la partita andrà tra virgolette in discesa per i Nerazzurri, questo era un po' quello che immaginavo. E invece devo dire che il Verona comunque continua a provarci, continua a crederci, c'è un colpo di testa pericoloso di Djuric, che in area con la sua altezza, i suoi due metri, si fa sempre sentire, mette in difficoltà spesso i difensori dell'Inter. Ci sono diverse potenziali occasioni per l'Inter, ma anche diverse potenziali occasioni per l'Inter, che ha il rammarico di non chiudere la partita. Devo dire che l'Inter davanti mi ha dato la stessa sensazione di pericolosità che mi dà di solito, l'Inter è una squadra che quando attacca in genere le partite che vedo dà sempre la grossa sensazione di pericolosità ad ogni attacco che fa, devo dire che però mi è sembrato un po' più fragile dietro, perché il Verona ogni volta che ripartiva in contropiede oppure costruiva, mi sembrava che l'Inter andasse un pochettino in affanno. Era solo una sensazione nel primo tempo, ma si era comunque chiuso 1-0, e secondo tempo continuava un po' su questo filone, con l'Inter che ci provava senza troppa convinzione, senza tantissime occasioni, sì, è arrivata qualche altra occasione per Lautaro, Turam, un tiro diciamo a Noglu, su sponde di Lautaro è uscito di poco. L'Inter ha avuto qualche occasione, però diciamo che la partita sembrava anche poter arrivare sul finale così, l'Inter sembrava anche voler gestire un po' questo vantaggio. Il Verona però, anche nel secondo tempo, quando arrivava in avanti dava l'impressione di poter combinare qualcosa. Poi all'improvviso arriva quello che non ti aspetti. Henry entra per il Verona e al primo pallone toccato la mette dentro. Recuperò palla su Arnautovic, la palla messa in mezzo da Duda, e Henry appunto al primo pallone toccato anticipa il difensore dell'Inter e la mette in porta. A quel punto l'Inter un attimo deve rivedere tutti i suoi piani d'attacco, tutte le sue priorità, perché secondo me c'era già la sensazione di portare la partita così, appunto, sull'1-0 nel finale. Questo 1-1 scombussola un po' i piani e l'Inter ritorna ad alzare il baricentro. Attacca con convinzione e che ha diverse occasioni, ma qui c'è un problema. Perché è entrata Arnautovic al posto di Turam e, ragazzi, Arnautovic è entrato malissimo. Perché intanto è lui a perdere la palla, su cui arriva il gol dell'1-1 del Verona. E poi Arnautovic si mangia due gol veramente clamorosi. In uno, dopo una parata di Montipò, se non ha visto male con la coscia, toglie la palla praticamente dallo specchio della porta. Quindi quasi salva un gol al Verona, perché si ritrova troppi davanti rispetto al Polone, quindi anziché spingerlo in porta lo tira all'indietro. E poi un altro, forse ancora più clamoroso, quando si ritrova su un'uscita sbagliata di Montipò, a Cerbia, a mettere una palla in mezzo. Lui praticamente sulla linea di porta deve solo spingere la di testa, disturbato un po' dal difensore del Verona. Non trova il tempo e la liscia completamente. Anche San Siro rumoreggia sui suoi errori. Arnautovic, diciamo che è stato preso come punta di scorta per il duetto Lautaro e Turam, e finora non ha minimamente dimostrato di poter fare questo ruolo, di poter ricoprire questo ruolo. Anche oggi veramente deludente un Arnautovic che ha rischiato seriamente di far pareggiare questa partita all'Inter. Ma poi, quando al 94esimo sembrava effettivamente potersi concludere così la partita, perché l'Inter ci provava ma il Verona riusciva a difendere anche subendo, comunque riusciva a mantenere la sua fase difensiva, arriva un'occasione veramente dove succede di tutto. Su un'azione lunga arriva il tiro dal limite dell'area di Bastoni che colpisce la traversa. La palla colpendo la traversa si alza, arriva fuori dall'area dove Barella al volo, lascia partire un bel tiro perché il tiro di Bastoni sulla traversa era bello, ma il tiro di Barella forse ancora di più perché la palla gli arriva campanile dalla traversa e lui la calcia al volo da lontanissimo. Monti può rispingere lateralmente ma c'è Frattesi che si è fiondato in posizione regolare e la mette in porta. Grande esultanza ovviamente di tutto lo stadio, dell'Inter, Frattesi che si toglie anche i pantaloni per esultare, vediamo le mutande di Frattesi in tutti i frame possibili e immaginabili. Però qua c'è da dire secondo me una cosa, io sapete non parlo quasi mai di episodi arbitrali, però in questo caso mi sembra giusto sottolinearlo perché comunque è veramente un'occasione decisiva, il gol all'ultimo minuto che fa vincere la partita dell'Inter e anche Marelli in telecronica l'ha confermato, secondo me ci stava un fallo di Bastoni perché se guardate il replay durante l'azione, c'è un giocatore del Verona che si butta a terra, io non avevo ben capito perché durante l'azione non ci avevo fatto caso, c'è questo giocatore del Verona che è rimasto a terra durante il corso dell'azione e Bastoni che diciamo in un replay si vede che lo guarda e gli rifila una gomitata, non forte, ovviamente il giocatore del Verona è stato lì per terra per far scena e tutto quanto, però se vedete il replay comunque non è che Bastoni ha allargato lo braccio, è stata una gomitata volontaria, perlomeno dall'unico replay che ho visto io, ho visto uno di replay. Si gira, con il gomito va a colpire forse nel petto il giocatore del Verona, volontariamente per quanto piano secondo me l'arbitro avrebbe fatto bene a fischiare il fallo e interrompere subito l'azione, non ci sarebbe stata la traversa di Bastoni, i gol di Frattesi eccetera eccetera. Anche il VAR a mio avviso avrebbe potuto intervenire in questo caso perché l'arbitro probabilmente non l'ha visto, anche perché il pallone era in un altro punto, magari l'arbitro non era girato verso quella posizione, ecco lo stanno facendo rivedere adesso, a me sembra una gomitata volontaria. Lo stesso Marelli poi l'ha detto in telecronica, secondo lui era un gol da annullare perché il fallo lì c'era. Non ha influito nell'azione perché la palla non era lì, l'arbitro può non averla vista, la gomitata è leggera perché è tipo così, c'è un cesso di fastidio di Bastoni, però obiettivamente fallo, quindi secondo me il gol andava annullato. Ma ripeto, non voglio stare qua a discutere di episodi arbitrali, anche perché poi il Verona ce l'ha l'occasione per riaggiustare la partita, perché è vero che questo alla fine è il gol decisivo del 2-1, ma il Verona ce l'avrebbe l'occasione di riaggiustare la partita, perché poi succede veramente di tutto, 95esimo, grande esultanza, si va avanti, la partita non finisce, il recupero viene allungato, Montipò sale nell'area di rigore dell'Inter, il portiere del Verona, in un'azione confusa, dove anche Montipò partecipa, un giocatore del Verona termina a terra nell'area dell'Inter, anche lì per lì non ci ho fatto caso, non ci ho dato peso, l'Inter riparte in contropiede e sbaglia incredibilmente a porta vuota, perché Montipò era nell'area dell'Inter, l'Inter in contropiede con Barella e Sanchez soli davanti alla porta, riescono a sbagliare, perché Barella anziché tirare a porta vuota la pasta a Sanchez si fa recuperare, vabbè, cose folli, ma ad ogni modo il gol sarebbe stato annullato, perché poi c'è un non-field review, per il fallo precedente sul giocatore del Verona. Darmian, che era entrato nel secondo tempo, anche lui non è entrato benissimo, nel cercare di rinviare il pallone, colpisce il piede del giocatore del Verona, anche qui il tocco è probabilmente lieve, però sappiamo che col VAR questi tocchi sono sempre rigore, sono comunque, insomma quando vengono riviste al VAR sono sempre rigore. Rigore per il Verona, quindi il gol dell'Inter in contropiede, che sarebbe stato annullato, qualora fosse stato segnato da Barella o da Sanchez, Henry a quel punto, secondo me si vedeva già dalla sua faccia, prima che lo battesse al centesimo minuto, e si, diciamolo con un francesismo, scusate, diciamolo con un francesismo, si è cagato nelle mutande, diciamolo proprio così, proprio lo vedevo dalla faccia che aveva ansia, si ferma anche nella rincorsa, in realtà Sommer va dal lato sbagliato, quindi lui non deve neanche angolarla così tanto, forse cambia idea all'ultimo, schiaccia un po' il pallone, colpisce il palo, e sulla respinta Foloruncio, di testa la mette fuori, dopo la respinta del palo. Quindi che dire, che dire ragazzi, Inter che riesce a portare a casa questa vittoria, a partita che poi dura 102 minuti, va avanti per altri due minuti, però una vittoria soffertissima, soffertissima. Nel complesso meritata, devo dire la verità, come spesso ho detto che l'Inter vince, domina le partite meritatamente, questa volta mi sento di dire, ma non lo dico da tifoso o milanista, cercando di essere obiettivo, ripeto, spesso ho detto che l'Inter ha vinto le partite meritatamente, secondo me questa volta l'Inter non meritava la vittoria, cioè nel complesso ha creato più del Verona, però mettici che il Verona ha sbagliato quel rigore all'ultimo, mettici che il gol dell'Inter è arrivato nel finale, con quell'episodio comunque di bastone di cui si discuterà, secondo me il pareggio sarebbe stato anche giusto, per quello che ha fatto vedere il Verona, che è stato aggressivo, ha creato tante occasioni, e si è difeso alla grande in casa dell'Inter, secondo me l'Inter, il Verona meritava il pareggio, 1-1, 2-2, vedete voi, il calcio è così, poi se tu all'ultimo minuto non hai le palle, ti battere bene un rigore, lo sbagli, e giustamente poi l'avversario si prende la vittoria, e Inter che quindi con tantissima sofferenza si porta a casa questi tre punti, si porta a casa il titolo di campione d'inverno, comunque con 48 punti, se non ricordo male, nel girone d'andata, solo due pareggi, una sconfitta e mi sembra tutte vittorie, giù di lì, quindi veramente un girone d'andata fantastico per l'Inter, scusate di domani, tre pareggi e una sconfitta per l'Inter, e 15 vittorie, quindi un girone d'andata fantastico per l'Inter, che merita di essere campione d'inverno, occhio però perché la Juventus è sempre lì dietro, oggi aveva l'occasione di agganciare l'Inter, ma poi l'Inter è riuscita a guadagnarsi questi tre punti all'ultimo, altrimenti la Juve vincendo con Frusinone avrebbe potuto agganciare i nero azzurri, ma insomma se la Juve farà il suo contro il Frusinone, nonostante questo grande girone d'andata, l'Inter si ritroverà sempre la Juve lì a due punti, quindi il campionato è ancora aperto, e l'Inter questa sera ha dimostrato che può andare in difficoltà, è un momento non brillante per l'Inter, che dopo il pareggio col Genoa ha rischiato di fare un altro pareggio, questa volta a Casalingo, quindi non è un momento di estrema forma per l'Inter, e la Juventus dovrebbe approfittarne, magari vedremo se nelle prossime partite l'Inter farà qualche altro passo falso, oppure se ritornerà ad essere la schiaccia sassi che è stata per quasi tutto il girone d'andata. Ma questo era un po' quello che volevo dirvi su questa partita, c'è tanto di cui parlare, quindi scatenatevi nei commenti e fatemi sapere che cosa ne pensate, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!